Se ti stai chiedendo per quale motivo lavorare con una mood board o avere una mood board sotto mano possa essere importante allora ti raccomando di continuare a guardare questo video Ciao ragazzi, bella lì e benvenuti in questo nuovo video Se non mi conoscete io sono Matteo, sono un fotografo e un videomaker e sono residente qui a Venezia quindi se siete dalla zona, volete fare due scatti e un bel video insieme allora contattatemi e non saprò dirvi di no In questo video ti insegnerò come potrai creare una mood board Una mood board altro non è che un documento che i creators utilizzano per prendere spunto, per prendere ispirazione da altri utenti Un problema che hanno moltissime persone all'inizio del loro percorso creativo è proprio partire disorganizzati e con disorganizzati non intendo partire senza attrezzatura ma partire senza un fine già prefissato in mente Io in primis per due o tre anni ho sottovalutato questo aspetto, l'aspetto della preproduzione di cui fa parte la mood board La preproduzione non comprende soltanto la location scouting, la preparazione dell'audio, dell'attrezzatura, uno storyboard comprende anche la mood board proprio perché serve al creator appunto per prendere ispirazione e poter raggiungere un risultato quanto più simile all'idea di partenza Lavorare con una mood board sotto mano ti consente di migliorare moltissimo il tuo workflow perché andrai a scattare molto meno o a fare molte meno riprese ma andrai ad effettuare solo quelle che sono necessarie, quelle che ti eri già prefissato e poi nell'eventualità dove si aveva qualche idea sul momento ovviamente potrai andare a realizzarla Ma questo è un discorso a parte Per stirare una mood board però c'è bisogno di ispirazione e questa ispirazione generalmente dov'è che la possiamo trovare? Fondamentalmente possiamo trovarla ovunque, quindi sul web ma anche su giornali, quindi materiale cartaceo, su quadri, riprese, da film, da qualunque cosa Io prevalentemente utilizzo Pinterest o Instagram Instagram perché effettivamente ci sono molti creators che mi piacciono e da cui vorrei prendere ispirazione Pinterest d'altra parte ti consente di effettuare delle ricerche molto più mirate in base al mood, in base all'argomento, in base al tipo di scatti che vuoi andare ad effettuare Per esempio potresti andare a cercare un determinato genere fotografico una determinata situazione, dei determinati colori, quindi delle color palette o addirittura delle scene iconiche dei tuoi film preferiti Per esperienza ti dico che moltissimi si rifanno a dei quadri ma non per forza devono esserci solo immagini nella tua mood board perché potresti tranquillamente inserire anche quelle che sono dei testi, delle poesie o della musica Ci sono moltissime canzoni che in genere le persone trovano d'ispirazione che possono aiutare a creare un contenuto con un certo mood Oltretutto sia Pinterest che Instagram ti danno la possibilità di salvare determinati post che ti piacciono e addirittura includerli in una sorta di raccolte raccolte che puoi differenziare per colori, per genere, per tipologia o secondo i tuoi gusti Una volta salvati i post quello che consiglio è di creare dei documenti, dei pdf, che possono essere consultabili nel momento dello shooting, nel momento delle riprese Quindi banalmente ti basterà scaricare le immagini, che ci sono una marea di programmi in internet che ti consentono di farlo sia da Instagram che da Pinterest e dopodiché unire queste immagini all'interno di un documento su Photoshop stamparlo in formato pdf e potrai tranquillamente utilizzarlo sul tablet al momento dello shooting o perlomeno questo è quello che generalmente faccio io quando mi trovo a lavorare su un set Ovviamente la mood board non è uno strumento che utilizzano soltanto i fotografi o i videomaker Se sei un grafico, se sei un appassionato di moda, uno stilista, un musicista, qualunque tipo di artista potrai tranquillamente trovare tutta la documentazione di cui hai bisogno per poterti formare e per poter costruire la tua mood board Io spero che questo video ti sia piaciuto e che ti sarà anche utile per evitare di fare quei piccoli errori che in genere facciamo quando siamo agli inizi con una di questo tipo di attività Se vuoi supportare quello che faccio, lascia un bel mi piace, condividi il video e iscriviti al canale per non perderti tutti i prossimi contenuti che arriveranno Io ti ricordo che comunque puoi trovarmi sia qui su YouTube che su Instagram Da poco ho aperto anche un progetto in collaborazione con altri ragazzi che si chiama Boiler Studio Ti lascerò comunque il link nella descrizione nel caso volessi dare un'occhiata Tutto quello che dovevo dire per fare un minimo di sponsorizzazione ovviamente l'ho fatto Noi ci vediamo molto presto con un prossimo video sempre qui sul canale Vi lascio tutti i link utili nella descrizione e noi ci vediamo in un prossimo video Ciao